Amici del Vitefego Arena, in occasione di questo grande match abbiamo l'occasione di accogliere con noi un grandissimo artista con il rock'n'roll nel sangue, uno straordinario performer, un pesarese doc, ma che grazie al suo talento ha girato il mondo esibendosi in mille concerti almeno in tutto il mondo. E' un grande onore averlo qui con noi oggi, nel 2017 è stato ospite in prima serata su Rai 1 di Gigi Proietti con il programma Cavalli di Battaglia e poi ancora Edicola Fiore con Fiorello. Nel 2018, quest'anno, è uscito il suo nuovo album Piano Man. La stampa lo ha definito il fenomeno degli 88 tasti. E' un piacere e un onore avere con noi Matthew Lee! Applausi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.